lavorare per il cinema intanto c'è da precisare una cosa il disegnatore di fumetti è molto utile per il cinema perché nel fumetto ci sono varie categorie legate all'immagine quindi il disegnatore deve conoscere un po il cinema deve conoscere la scrittura la scenografia il disegno in generale deve saper raccontare quindi anche avere delle nozioni di regia di estetica quindi almeno per la mia esperienza essere essere un disegnatore di fumetti è stata veramente un qualcosa che mi ha fatto lavorare in varie categorie del cinema in vari dipartimenti per essere più più tecnico specifico la differenza è che ovviamente per poter essere utile in un progetto cinematografico si deve lavorare a fianco di un addetto ai lavori può essere il regista il costumista lo scenografo e avere in qualche modo delle affinità elettive mi è successo con Milena Cannonero sicuramente amavamo gli stessi registi e lei ha avuto ovviamente una carriera e un'esperienza incredibile nel cinema io ero un neofita però ci siamo accorti di amare la pittura la pittura antica quella moderna per cui tutti questi elementi sono stati indispensabili e utili per per poter mettere in atto alcune alcuni progetti perché per quanto riguarda il disegnatore lavora in fase progettuale sia per convincere la produzione o anche per aiutare appunto gli addetti ai lavori lo storyboardista lavora con il regista il concept artist lavora magari con lo scenografo col direttore della fotografia e il visualizer lo sketch artist lavora con il costumista poi c'è la parte legata al mestiere che è quella che dicevamo prima cioè il fumettista è prezioso perché ecco per esempio conosce anche le tecniche del colore e qui io ho francamente ho inventato un po delle tecniche per realizzare velocemente per esempio le silhouette che sono indispensabili per consentire alla costumista di imbastire dei costumi e poi farli accettare agli attori che ovviamente non vogliono mettersi un costume che non non li esalta non li convince quindi ho trovato un sistema per poter lavorare velocemente sulle silhouette degli attori anche magari con le loro facce e poi presentargli appunto i costumi costruiti c'è una fase diciamo progettuale legata allo sketch dove la costumista cerca di trovare la strada giusta eccetera poi c'è il definitivo che in effetti è quasi un progetto sia nella scenografia che nel nel dipartimento legato ai costumi e al make up eccetera poi alla fine ci vogliono dei progetti precisi perché tutto questo poi viene passato a degli artigiani e gli artigiani hanno bisogno di delle cose molto definite dove non ci siano ambiguità e ottennamenti perché poi vanno realizzati realmente questi questi progetti il cartone animato è più vicino al fumetto proprio come progettualità nel senso che è basato esclusivamente sui disegni se nel cinema mettere insieme un team di persone e poi queste persone reali vengono fatte recitare vengono vestite vengono illuminate eccetera nel cartone animato tutto si basa sul disegno e si avvicina al cinema perché a differenza del fumetto il team che ci lavora è composto di molte persone quindi chiaramente è più costoso è più difficile realizzare un cartone animato è difficile quanto realizzare un film qualche volta anche di più allora la mia esperienza si basa sul lavorazione diciamo del background della progettazione del carattere design anche qui c'è bisogno di affinità elettive cioè io ho incontrato ho avuto la fortuna di incontrare un regista con cui mi sono trovato molto bene che era molto chiaro molto preciso nelle sue richieste capiva qual era la mia creatività Giuseppe Laganà il regista in questione e anche con Claudio Bruni che era il suo assistente e quindi abbiamo prodotto una serie televisiva di 26 puntate è stato un lavoro madornale perché bisogna disegnare tutto nei cartoni animati anche qui perché poi gli animatori hanno bisogno di parametri molto precisi come gli artigiani che realizzano costumi, armi eccetera eccetera per quanto riguarda il fumetto ogni mercato ha le sue esigenze sia perché il pubblico è abituato a un certo tipo di cose e anche per esigenze editoriali così negli Stati Uniti così in Giappone così in Italia o in Francia la mia esperienza si basa esclusivamente anche se ho pubblicato delle cose anche negli Stati Uniti però si basa principalmente con il lavoro fatto per editori francesi e editori italiani la differenza per quanto mi riguarda come filosofia per me il contenitore ha un valore relativo nel senso che non conta come è confezionato ma conta che cosa c'è dentro quindi ho letto fumetti bellissimi in un formato molto molto popolare e fumetti non belli tutti patinati e il discorso del fumetto francese è proprio il tipo di prodotto che viene messo sul mercato cioè il prodotto del libro, il libro ti espone perché tu ci metti il nome insieme a magari uno sceneggiatore e quindi se non vende è chiaro che la tua carriera comunque ne risente il fumetto italiano che è basato molto sui personaggi, sulla serialità sei un po' più protetto quindi sei meno in evidenza però sei all'interno di un progetto che funziona poi chiaramente il fumetto francese si basa molto anche sul romanzo disegnato che forse è un'invenzione proprio dei francesi quindi questo ti consente di poter parlare di temi o raccontare cose che altrimenti in altri contesti non puoi fare per quanto riguarda i campi dell'immagine con cui ho avuto a che fare insomma appunto il cinema e il mondo dei cartoni animati specialmente il fumetto la cosa che comunque il filo conduttore almeno per me rimane la curiosità il fatto che sono interessato a sperimentare, a provare nuove strade e nuovi materiali quello dei materiali è sicuramente un qualcosa legato all'antica bottega artigianale questa cosa l'ho riportata anche alla scuola romana dei fumetti e penso che sia stata una buona strategia cioè quella di riprendere un po' la bottega dell'arte escono continuamente i materiali fantastici però poi vanno testati, provati come se uno fosse un collaudatore cioè il disegnatore o l'illustratore deve essere un alchimista che prova nuovi stili, nuove tecniche, nuovi materiali per modellarli e presentarli al pubblico sia a una scuola o al lettore oppure anche per se stesso quindi questa cosa mi è rimasta viva è un interesse che mi porto avanti da quando ho cominciato da molto giovane ed è uno stimolo che spero che continui il più a lungo possibile perché quello di cercare nuove strade spesso sono vicoli ciechi ma quello di cercare nuove strade è un modo per non cristallizzarsi e ripetere in maniera maniacale magari professionale però in maniera pedissequa quello che uno già sa fare ed è diventa noioso poi insomma lavorare per vari settori ha un vantaggio perché poi le cose si contaminano per esempio è chiaro che nei fumetti almeno quelli che ho disegnato io qui ne vediamo alcuni spesso cambia ambientazione poi mi sono fatto un nome specialmente per lo scrupolo che ho nel disegnare ambienti, scenografie quindi mi sono capitati spesso fumetti storici ecco in questo caso veramente l'aver lavorato insieme a Milena Milena Canonero è stato molto utile perché lei mi ha fatto capire che la documentazione migliore è quella coeva in che senso è meglio prendere un arazzo o un basso rilievo disegnato in maniera arcaica o con le figure non definite eccetera e ricostruirle e qui rientra il discorso perché è utile il disegnatore di fumetti che sa e conosce il figurativo perché può trasformare un basso rilievo gotico in un qualcosa utile per il cinema e l'illustrazione e la documentazione coeva è importante e più utile perché chi ha fatto quelle opere in quel momento vestiva così viveva esattamente nei luoghi che tu devi descrivere quindi ecco questa è una cosa che mi sono portato dal cinema e invece per esempio per quanto riguarda i fumetti e l'esperienza che ho fatto in altri campi quello della capacità di essere organizzato spesso ho trovato in campi legati all'estetica all'immagine un'incapacità organizzativa dei tempi lunghissimi eccetera il disegnatore di fumetti invece è molto pragmatico in questo senso i generi che preferisco sono il noir e l'avventura che sono dei generi che possono essere applicati anche ad altri generi mi spiego se devo disegnare una storia erotica un altro genere che mi piace molto anche se non è stimato da tutti gli addetti ai lavori però posso disegnare una storia erotica noir se racconto una storia gotica posso raccontare una storia gotica avventurosa ma poi sono state le mie letture che mi hanno condizionato cioè quindi i generi che che amo sono vari proprio perché il noir e l'avventura può essere applicata a tutto anche alla fantascienza per esempio se prendiamo le guerre stellari ci sono degli spezzoni qua e là che poi comprendono vari generi cioè quello più avventuloso quello più noir quello più fashion eccetera quindi diciamo così è un modo per non dare nessuna risposta però è vero cioè le mie letture sono state quelle di almeno all'inizio di Salgari di Melville nei fumetti leggevo Tex oppure più tardi Corto Maltese o per quanto riguarda i libri polizieschi o noir quello che mi era più più simpatico mi sono simpatici tutti gli investigatori però sicuramente Poirot è stato quello più simpatico quello che ho seguito di più sia nei libri che nel cinema della televisione ma i gre quindi ecco insomma poi le passioni vengono dalle letture che hai fatto quando non eri un professionista non disdegno sicuramente collaborare con sceneggiatori o fare lavori su commissioni quello di fare lavori su commissioni non la ritengono a diminuzio per esempio nel campo della pittura è proprio una cosa che manca tantissimo cioè il committente se noi pensiamo come nascono i musei il primo collezionista che è il primo collezionista che è il cardinale borghese uno dei primi collezionisti adesso non ho dei riferimenti precisi era uno che commissionava quindi le commissioni hanno fatto proprio la storia dell'arte quindi non disdegno assolutamente le committenze o lavorare insieme a un altro professionista che scrive però la cosa migliore è scriversi e disegnare le storie da soli ma non tanto perché questo poi facilita i rapporti puoi rivenderle non hai problemi magari di contrattuari eccetera proprio perché così ti scrivi se sai scrivere ovviamente perché la scrittura è fondamentale per il fumetto ti scrivi le cose che ami di più che sai disegnare meglio è una questione pratica